3, 2, 1, via! Allora tra qualche minuto di sotto sta per iniziare la gara delle Cargo Bike il pubblico vuole iniziare la gara delle Cargo Bike vieni anche tu con quella testa lì venite giù alla gara delle Cargo Bike? non venite? come no? hai ucciso un carico umano prima hai la stigione che si fa a testa hai la stigione che si fa a testa hai la stigione che si fa a testa però qui ce la fanno una hanno messo un carico umano dietro non sa se sei rapido sta a testa dovete caricare in A per scaricare in B dovete caricare in A per scaricare in B un'altra parte un'altra parte è un'altra parte non sa se hai avuto un'altra parte ma ci vediamo un altro tempo vediamo solo un sacco di corpie da percorrere Corretta, 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 corretta Lo sai che c'è la gara sotto, c'è la gara, venite giù, venite giù, vai Pronti per la finale, pronta l'orchestra, un pezzo breve, un pezzo breve 3, 2, 1, via Grazie, grazie a tutti Questo momento ti sembra molto solo fine, questo è scaricato Tanto l'orchestra Grazie